ciao a tutti e bentornati nella mia stanza allora siamo al 10 di ottobre 11 di ottobre chi lo sa dovremmo essere a metà ottobre quindi vuol dire che mancano 18 giorni al luca comics 2022 quindi come vi ho già detto state pronti perché insomma ci sarà un tripudio di eventi un tripudio di cose ci sarà il classico il nostro immancabile torneo dove io sarò presente a giocare insomma ci sarà di tutto di più se vi incontro a chi non l'ho ancora date darò le spille gli adesivi del gli adesivi del canale insomma sì cioè sarà un evento come al solito un tripudio di micette che ci porterà ad essere molto poveri giovedì forse di questa settimana parleremo anche delle uscite così potremmo renderci conto di quello che dobbiamo comprare per essere felici ma poveri o poveri ma felici scegliete voi oggi però facciamo un salto nell'old school parlando di un gioco di ruolo che ha qualche qualche anno ma che sono riuscito a recuperare nella sua forma cartacea perché appunto non si trova più e oggi ne parliamo ma ne parliamo rigorosamente dopo la sigla e Grazie a tutti. Eccoci, il gioco di cui parliamo oggi è la creazione di Stuart Robertson e Antonello Molella per la The Engineer Games and Simulator, pubblicato da Terra dei Giochi. Sto parlando di Strange Magic, il gioco di ruolo Fantasy Old School. Questa che vedete è la scatola base, il primo set, regolamento e avventure. Poi ne è uscito un secondo blu dal titolo Strange Magic Deeper Dungeons, avventure e supplementi expert. E poi è uscita la terza scatola di produzione, anche essa di produzione interamente italiana, di Michele Pavani, Eldor, ambientazione e fantasy, old school. Eccola qua, in scatoletta. Allora, Strange Magic è un gioco del... Apriamo la scatolina, all'interno, poi parliamo di Strange Magic, allora all'interno c'è un manuale, delle regole lunghissimo di 78 pagine, uno schermo dell'arbitro, schermo del master, schermo del master e poi un'avventura, la tomba perduta di Ishanak, eccola qua, scritta da Antonello Molella, di anche questa una trentina di pagine, e poi il manifesto di Strange Magic, di quello che si prefissa come gioco. Andiamo a esaminarlo un po' più nello specifico e ci andiamo dopo i consigli per gli acquisti. Ciao, benvenuto in questo canale. Se sei nuovo ti consiglio di diretti che attivare la campanella per non perdere sul video, ricordo un like e di non dire con i miei amici. Allora... Strange Magic... Questa è la sua terza edizione, ormai ha 3 anni, è uscito credo per la prima volta nel 2017, e questo manualetto raccoglie il base, il companion e i mostri. Si presenta come un volumetto A5, tascabile, pratico, io lo sapete, non sono un amante del formato A5, preferisco sempre l'A4, però come mi è stato fatto notare da persone che viaggiano su mezzi pubblici, eccetera, eccetera, può essere più agevole avere un manuale di questo formato. Le illustrazioni sono evocative dell'old school, quindi sono illustrazioni che ci portano direttamente in quei ricchi anni 80, anni 70, anni 80, spruzzano, sprizzano D&D, sprizzano Lupo Solitario, di tutto, di tutto, di più, di tutto, di più. La copertina credo che sia fatta da uno dei disegnatori storici di Lupo Solitario, non vorrei fare gaff, c'è un'illustrazione che invece richiama molto, vediamo se ve la trovo, invece il manuale di AD&D, che tanto non troverò ora che la sto cercando di corsa, ma tanto si sa, no, che funziona così, quando cerchi qualcosa non la trovi mai. Allora, vi dico già che la mia illustrazione preferita del manuale è questa, ora ve la faccio vedere, è la mia illustrazione preferita e poi vi dirò perché. Questa racchiude tutta l'old school ed è veramente la mia illustrazione preferita. Allora, qui in 78 pagine c'è tutto, c'è tutto quello che serve per giocare, la creazione del personaggio, le meccaniche di gioco, i mostri, l'avanzamento, c'è tutto. Quindi, a un ragazzo che vuole cominciare ed approcciarsi oggi all'old school, strange magic potrebbe essere un'ottima soluzione, potrebbe essere un'ottima soluzione, se non ci fossero alcune cose che mi lasciano un pochino, un pochino perplesso. Prima di fare questa recensione sono andato a spulciare il sito di dungeonergamersgames.it, mi sono scaricato le fanzine per vedere se c'erano patch o cose del genere per rendere il gioco, per risolvere alcune... Allora, cerchiamo di metterla in quest'altra maniera. Tutti i giochi old school crashano a un certo punto. Per esempio, D&D. D&D si può dire che dalla fine dell'expert, all'inizio del companion, il sistema comincia un po' a cigolare, fino a poi a rompersi definitivamente quando sei a livello companion. Altri giochi di cui abbiamo parlato, uno su tutti, per esempio, Girsa e la sua controparte roll master. Cioè, in Girsa all'inizio il dado ha un ruolo determinante, poi già dal terzo o quarto livello il gioco, cioè il dado, non serve più o non è più così determinante come altri giochi. Ma potrei parlarne veramente tanto delle criticità dei giochi old school. Perché erano giochi in cui ci si doveva divertire, in cui il master doveva mettere lui le varie toppe per farlo funzionare bene. E Stranger's Magic, non so perché mi stava per venire Stranger Things, Stranger's Magic è questo. Si parte con la creazione del personaggio, ci sono quattro caratteristiche che sono combattimento, resistenza, destrezza e magia. Quattro punti da distribuire fra queste caratteristiche in maniera libera. L'unica condizione, e lo vediamo subito, è che ci debba essere almeno un punto a resistenza. Fatto questo, si parte che siamo tutti umani, fatto questa distribuzione di questi quattro punti, si sceglie una delle, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, una delle dodici classi che sono presenti nel manuale, dall'alchimista allo stregone, passando dal guerriero, dal barbaro, il necromante, eccetera, eccetera. All'interno della descrizione della classe c'è scritto le limitazioni delle armi e le armature che possono portare, le abilità speciali e la progressione ogni volta che si sale di livello. Questa è la creazione del personaggio. I punti ferita ricordano i punti ferita che sono presenti in Mauseritter e in altri giochi si chiamano punti destino e rappresentano tutto, vitalità, energia, tutto quello che riguarda il PG. Terminato il destino, quando si arriva a zero, il personaggio sviene, qui dopo si parla della prima cosa che non mi è piaciuta di questo gioco, ok? Ogni classe, barbaro, guerriero, paladino, avventuriero, eccetera, eccetera, ha un dado destino diverso dagli altri. Si parte dal D12, che è quello del barbaro, fino ad arrivare al D4, che è quello dell'agra del mago, per capirsi. Cosa succede? Dopo fatto questo, si spendono i punti magia per personalizzare il proprio personaggio. Quindi, si parte con tutti i umani, spendendo un punto magia, ovviamente non scende la caratteristica magia, rimane quella però ci sono i punti da spendere. Fatto con un punto magia si può essere o nano con dei bonus, o elfo con dei bonus, o alfling con dei bonus, e si è speso un punto magia. Poi, con un altro punto magia si possono prendere le abilità speciali, che vanno dal carismatico all'esto. Mi è piaciuto il fatto che Dungeoneer sia stato lasciato in italiano, invece che scrivere, come potrebbe essere stato traducibile, Dungeoneer, esperto di sotterranei, per dire, però, insomma, Dungeoneer mi piace molto. Forzuto, percezione, insomma, ci sono una serie di abilità speciali che possono essere utili. E poi, l'ultima cosa, le abilità speciali sono generiche di combattimento, abilità speciali legate alla cura, abilità speciali legate alla conoscenza, abilità speciali legate alla destrezza, e poi ci sono le abilità speciali legate alla magia. Fatto questo, se si vuole non scegliere, si possono scegliere i poteri magici. I poteri magici, che sono le magie. Quindi, niente vi vieta, o niente vi vieterebbe, di creare un guerriero che possa castare un incantesimo. Ok? Quindi avete la libertà della creazione del personaggio rapidissima, cioè veramente quasi illimitata. Quasi illimitata. Gli incantesimi, c'è degli incantesimi che sono di una potenza devastante, tra cui la classica palla di fuoco, o ancora meglio, fuoco infernale a magia 5, però insomma, c'è della roba veramente sgravata. Il combattimento avviene su una tabella di lupo solitariana memoria, che è questa. Vediamo se riesco a farvela vedere. Dovrebbe essere questa la telecamera. Questa qui è la tabella del combattimento, dove ci si mette la difesa e l'attacco. All'intersezione si trova un punteggio da dover superare con un D20. Questo è il combattimento. Insomma, 14 minuti, questo è il combattimento. Le azioni, che possono essere azioni difficili da poter tirare, è una regola opzionale che io metterei subito, che è la fatica mentale. Allora, cos'è? Poi ci sono i mostri, eccetera, eccetera. Allora, cos'è che mi ha lasciato perplesso? Il fatto che, per essere un gioco old school, non si muore mai. A meno che non tu abbia la sfiga di essere un PNG o un mostro. Ma se sei un PG, non muori mai. E vi dico perché. Andiamo a prendere il combattimento. Allora, combattimento. Vi dico perché e poi dopo vi dirò quello che penso di Strange Magic. Allora, dice il combattimento. Lo vado a leggere dal manuale. I personaggi che hanno i punti destino, che abbiamo visto essere punti ferita all'inizio del gioco, ridotti a zero da attacchi non letali, perdono conoscenza per il resto del combattimento. Se il personaggio, invece, raggiunge zero punti destino, dopo essere stato colpito da un attacco letale, si lancia un D6 più la resistenza. Abbiamo visto che in creazione del personaggio, loro ti dicono di mettere almeno un punto resistenza. Poi ci sono le classi dei personaggi che salgono di punti resistenza. Di più o di meno, ovviamente, una classe combattente salirà di punti resistenza più velocemente di una classe non combattente, ovviamente. Però che succede? Io arrivo a zero punti destino. Vado giù. Devo lanciare un D6 e sommarci il mio punteggio di resistenza. Quindi, supponiamo che io abbia resistenza 1, perché il gioco, al primo livello, mi dice di mettere resistenza 1. lancio un D6 e faccio 5 più 1, 6. Sono stordito. Dice, perdi la prossima azione. E poi ti dice, se una volta stordito il personaggio verrà colpito ancora, cadrà incosciente per un D4 di round. Ho fatto 5 più 1, 6, quindi ho fatto tanto. Supponiamo di fare 3 più 1, 4. Dice, ferito, sono svenuto per due aderdi da 6 di round e riduce la resistenza a zero finché non vengo curato. Ok. Supponiamo che faccia 1. Dice, qui, con 1 il personaggio è morto. Con 2 il personaggio è morto in 2 D6 di round. Ma io tiro un D6 più resistenza. Quindi vuol dire che io al primo livello ho un D6 più 1. Quindi 1 più 1 fa 2, quindi morirò in 2 D6 di round. Ma non muoio istantaneamente quando arrivo a zero. Mettiamo di aver fatto un guerriero. Mettiamo di aver fatto un guerriero. E dice, può acquisire l'abilità speciale, generica o di combattimento, terzo livello, ok. Combattimento ogni livello. Progressione ha un punto in combattimento ogni livello e destrezza ogni 3 livelli. Quindi rimango a quello che ho scelto. Ok. Però se io ho fatto il barbaro, ho la resistenza ogni 2 livelli. Quindi che vuol dire che se io salgo e faccio un barbaro di terzo livello e ho dato un punto resistenza, a quel punto ne ho 2. Quindi se io faccio 1 di dado più 2, faccio 3. Quindi con 3 io arrivo a ferito gravemente. Ci siamo capiti? O devo dire qualcos'altro? Perché vi consiglio di mettere la regola della fatica mentale, la regola opzionale che è nel capitolo 9? Perché è un altro modo per mettere sotto pressione i personaggi. Perché io posso metterli sotto pressione e alla fine la pressione potrebbe essere talmente tanta, talmente forte che decidono, cioè i personaggi si tolgono la vita da soli. E' vero, hanno messo in una delle fanzine, non mi ricordo il numero, potrebbe essere il numero 1 e il numero 0, o il numero 1 e il numero 3, perché il 2 per qualche motivo è in vendita, non mi chiedete perché. La regola opzionale dei colpi critici. Non lo so, ecco, questo mi ha lasciato un pochino per pressione. Ecco la regola che cercavo. Progressione dei personaggi. I personaggi partono dal primo livello e ad ogni passaggio di livello guadagnano un punto di resistenza. Quindi come vedete morire è veramente difficile e questo secondo me prende tutto il bello di questo gioco, prende tutto il bello di Strange Magic, c'ha tante cose, le azioni, il fatto di poter addirittura creare il guerriero che casta magie, il ladro che casta incantismo, è una cosa che a me piace veramente tanto, 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 però, porca miseria, dal secondo, terzo livello la morte che non deve essere auspicata perché togliamoci dal discorso stupido che l'old school, le avventure old school di un finico il tpk perché sono cazzate. Togliamocelo. Ok? Togliamolo. però la morte dei personaggi deve essere una cosa ben presente nella loro vita. Il fatto stesso che te a questo punto riesci ad eluderla, quindi a svenire o qualcos'altro, già la gente rompeva le scatole nel D&D Scatola Rossa perché c'era la famigerata sindrome dello scoiattolo, cioè, tu avevi un guerriero che ha fatto sempre 8 col tiro di dado a costituzione 18 più 3 al 36esimo livello, aveva 153 punti ferita, arriva a avere nei persi 152 ancora attivo nel momento in cui viene morso da uno scoiattolo che è chiamato appunto sindrome dello scoiattolo o sindrome del dito nel cassetto, viene ferito e muore perché ha perso l'ultimo punto ferita. questo era il grosso problema del D&D e tutti ne hanno parlato di questo grosso problema. L'altro grosso problema era il fatto che, per esempio, in Martelli da Guerra, in Warhammer, l'altro gioco, Old School, tutte le armi facevano il solito di Sedi Dan, poi era in base alla forza, l'abilità e tutto. Cioè, ogni gioco Old School aveva i propri problemi, i propri limiti, eccetera, eccetera, e ne abbiamo parlato ed è giusto parlare anche di questa criticità di Strange Magic. Come si può ovviare a questa criticità? Togliendo quella tabella. Cioè, se il master e i giocatori sono d'accordo, si toglie la tabella. Perché si fa rivivere, è vero che a quel punto la caratteristica resistenza perde tutto il suo significato e siamo d'accordo. Però rende il gioco un pochino più, io uso un termine che nel gioco di ruolo non si può usare, ma capitemi, realistico. Rende il gioco un capellino più realistico. Comunque, questo è Strange Magic. Oltre a questo è uscito, ah, altra cosa, mi rivolgo soprattutto all'editore italiano. c'era un altro sistema che aveva uno schermo in formato A5. Voi mi ci vedete col mio grosso faccione e non fate battute nascosto così? Cioè, non c'entro, non c'entro. Ok? Ed era lo stesso problema che aveva lo schermo dell'arbitro del gioco di ruolo di D-Landog. come lo rivolgo, come sopperirono i creatori a questo problema aggiungendo un pezzettino, aggiungendo quella che su Excalibur chiamavano prese in giro manzatta, però permetteva di far crescere lo schermo. poi lo ripiegavo e lo mettevi dentro. Queste sono alcune cose che non mi sono piaciute. Mi piace il fatto che Strange Magic sia supportato. Mi piace il fatto che quando ci sono gli eventi c'è sempre qualcuno che lo porta Strange Magic perché questo è un ottimo qual è la telecamera? quella? sì. Strange Magic è un ottimo gioco per cominciare a giocare. È un ottimo gioco perché in 70 pagine c'è tutto c'è veramente tutto. Addirittura c'è un'avventura che poi viene sviluppata qui dentro dove di qui dentro ce ne sono ben tre di avventure. C'è spiegato il sottomondo dell'ambientazione. C'è un'avventura che io ho letto che è l'ombra di Xanathur che mi è piaciuta veramente tanto. E sono e poi addirittura qui dentro oltre alle tre avventure oltre alle tre avventure qui dentro ci sono anche un paio una mappa dal puro stile old school che è questa telecamera è sempre questa qua giusto? Sì. C'è sempre un'ottima mappa old school per non parlare poi dell'ambientazione perché nell'ambientazione allora questo lo richiudo perché se no mi si rompe nell'ambientazione in Eldor penso che si legga Eldor nell'ambientazione Eldor c'è un sacco di roba c'è un corposo manuale di anche questo 78-80 pagine che è questo qui all'interno c'è spiegato il concetto del multiverso veramente c'è un sacco di roba mostri che provengono da da altri piani è un lavoro eccesso è un lavoro eccesso quello che perché mi piace mi è piaciuto Strange Magic mi è piaciuto perché ha una community di appassionati aspettate che torno con l'altra telecamera mi piace più dicevo ha una community di appassionati veramente bella interessante viva è uscito ne abbiamo parlato a Modena a Play 21 Demon and Wizard che è il sistema per giocare Doom Fantasy veramente però questa community di giocatori di appassionati che hanno fatto fanzine nelle fanzine c'è tutto nuove classi del personaggio c'è nuove classi del personaggio nuove armi nuove armature i colpi critici per cercare di risolvere questo problema cioè veramente è un lavoro encomiabile è un lavoro di appassionati encomiabile il gioco non costa tantissimo voi fate conto che se riuscite a trovare la scatola nuova ogni scatola costa 25 euro credo che sia esaurita io l'ho trovata su quel solito noto mercato di sito di e-commerce usata e quindi con un po' meno le ho prese tutte e tre però trovatelo leggetelo perché per one shot o per far giocare chi non ha mai giocato chi non ha mai giocato di ruolo è un entry level fantastico è veramente un entry level fantastico e se voi trovate un modo per far risolvere quel problema scrivetelo nei commenti qua sotto allora ho finito siamo a metà ottobre io vi saluto ci vediamo penso lunedì prossimo ma non so se parleremo di GDR e poi un altro lunedì c'è Luca Comics e quindi noi ci vedremo direttamente la sapete cosa fare iscrivervi condividere mettere like o dislike non vi spaventate mettete anche il dislike se non vi piace perché è un modo per far crescere il canale anche quello e mi dite mi lasciate un feedback di quello che ne pensate ciao e alla prossima